Vince e convince il Barletta che resta in vetta a punteggio pieno. La capolista dell'eccellenza batte 2 a 0 il Manduria a decidere il match. Lattanzio su punizione e Lopez, entrambi nel primo tempo. De Candia ritrova Strambelli ma lo preserva in panchina. Bottalico titolare in mezzo al campo con Bernaola, Marsili col 4-3-3 con terminale offensivo De Sagasti Zabal. Partono bene gli ospiti con Cutrone da fuori aria al quarto, palla fuori. Il primo squillo però è già quello buono per il Barletta. Al dodicesimo punizione dal limite. Lattanzio arma il mancino e spiazza Maraglino per il vantaggio biancorosso. Cinque minuti più tardi la Vopa mette in mezzo per Lopez che di testa impegna il portiere biancoverde da distanza ravvicinata. Al ventottesimo il raddoppio. Azione Caparbia di Rotondo che serve Lopez. Bravo a vincere un rimpallo e a spiazzare ancora Maraglino per il 2 a 0. Padrone di casa in pieno controllo. Al trentaduesimo ci prova Turitto e al trentaquattresimo Bernaola in entrambi i casi senza problemi per il numero uno ospite. Al quarantacinquesimo Lopez in girata non inquadra lo specchio. Ripresa al via senza cambi. Il primo squillo è del Manduri al ventesimo con il neo entrato Sernia che calcia fuori dal limite dell'area. Un minuto più tardi la Vopa serve Leone che va di testa ma l'assistente segna del pallone oltre la linea di fondo. Al trentaseiesimo ci prova anche De Sousa. Tiro deviato ma Massari c'è. Il Barletta amministra senza forzare la mano. Unico squillo al quarantottesimo con Lopez di testa che salta Maraglino da pochi passi. Finisce 2 a 0. Il Barletta resta a punteggio pieno e con la porta inviolata in campionato. Adesso Biceglia in Coppa e Corato domenica prossima. Manduri ancora K.O. dopo lo 0 a 1 casalingo contro il Polimnia.